Ennesimo grave incidente stradale all'interno della rotatoria di via 4 novembre a Fano all'incrocio con via Pertini tra uno scooter ed un'auto. Una donna del 60 a Fanese, la passeggera dello scooter, è stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza che è atterrata nel campo vicino al centro traumatologico dell'ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni per una caviglia gravemente compromessa a causa dell'urto con il fascione paraurti dell'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.30 di oggi, una Fiat Multipla che procedeva su via Pertini in direzione Ancona-Pesero, una volta giunta la rotatoria è entrata in collisioni per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dell'infortunistica stradale della polizia locale con uno scooter onda che proveniva da via 4 novembre e doveva continuare sempre su via 4 novembre nell'intersezione che porta al canale Albani. L'urto contro il paraurti dell'auto sul lato sinistro purtroppo ha comportato lo schiacciamento della caviglia tra lo scooter e la plastica tagliente dell'auto. Sia la donna che il suo coetaneo alla guida della moto sono caduti a terra ma mentre per la donna le condizioni sono apparse subito grave ai soccorritori del 118, l'uomo è stato assistito dai sanitari sul posto ed è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori esami. L'autista dell'auto, un fanese, è rimasto illeso. Un altro grave incidente è nell'intersezione della rotonda che è stato già teatro di gravi e spettacolari incidenti in passato, tutti con la stessa medesima dinamica e questa volta purtroppo dalle disastrose conseguenze per una scooterista. Sul posto, oltre al 118, anche tre pattuglie della polizia locale di Fano per i rilievi di legge e regolare la viabilità.